Nei giorni scorsi il nucleo operativo della Polizia Ambientale di Gela, a seguito di un'attività di appostamento e pedinamento, ha individuato il personale di una società edile locale intento a bruciare rifiuti speciali derivanti dall'attività di ristrutturazione di un fabbricato in località Manfria, nel comune di Gela. I militari, dopo aver accertato, mediante diversi giorni di appostamento, che si trattava di una consuetudine nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta, sono intervenuti prontamente. Durante l'ispezione sono emerse anche numerose criticità inerenti alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, che di fatto ha deturpato una zona tutelata dalla legge, in quanto a meno di 100 metri dalla linea di battigia, nonché caratterizzata dalle dune naturali sovrastate da una rigogliosa macchia mediterranea. L'area di circa mille metri quadrati è stata posta sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione lecita di rifiuti speciali. Il trasgressore dovrà, in solido con il proprietario dei luoghi, provvedere al ripristino ambientale della zona. Intanto resta costante l'attenzione alle tematiche ambientali da parte del personale della Capitaneria di Porto di Gela su tutto il territorio, con particolare attenzione sia l'attività repressiva che preventiva.